Musica Sarà il ministro Adolfo Urso a inaugurare l'ottantasesima edizione della Fiera del Levante Non ci sarà la Premier Meloni per impegni istituzionali, la campionaria barese, torna a settembre, taglio del nastro, sabato 9 Un'altra vittima della strada nel Salento sulla Lecce Maglie, un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un camion che trasportava rifiuti Presentato a potenza il servizio di pronto intervento sociale e accesso alla residenza anagrafica per il contrasto alla povertà, un sostegno concreto, le famiglie in difficoltà Benvenuti a questa edizione interregionale del Tg di Antena Sud che apriamo con la Fiera del Levante La notizia in qualche modo era già nell'aria, non ci sarà la Premier Giorgia Meloni a tagliare il nastro della 86esima edizione della Fiera del Levante di Bari Ma verrà il ministro Adolfo Urso, come dicevamo nei titoli, tutto avverrà sabato 9 settembre La campionaria torna nel suo mese tradizionale, appunto, settembre, il servizio d'apertura Sarà il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a tagliare il nastro dell'86esima edizione della Fiera del Levante a Bari il prossimo 9 settembre La campionaria generale internazionale all'insegna dello slogan fortemente simbolico La forza del Levante si svolgerà negli storici spazi espositivi fino a domenica 17 settembre Palazzo Chigi ha infatti ufficialmente comunicato che a causa di impegni istituzionali La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non potrà inaugurare la manifestazione Ad aprire la cerimonia saranno il Sindaco di Bari Antonio De Caro, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente dell'ente autonomo Fiera del Levante Pasquale Casillo e il Presidente della nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli A chiudere i lavori sarà il ministro Adolfo Urso Alla cerimonia prenderanno parte inoltre i rappresentanti del Governo, i parlamentari, le personalità estere delle nazioni presenti a questa edizione della campionaria e le massime autorità civili, militari e religiose di tutto il mezzogiorno Ultima pagina, adesso ci occupiamo di politica, in particolare della cronaca politico-amministrativa con le comunali imminenti Bari e Foggia, il centro-destra e il centro-sinistra, ancora senza candidati comunali in alto mare dunque sia nel capoluogo regionale che in terra Dauna, negli schieramenti principali Nel capoluogo di terra Dauna, Foggia, meno di un mese di tempo per consegnare le liste a Bari La destra è la ricerca di un cosiddetto jolly civico Ci spiega tutto è meglio nel prossimo servizio Antonio Bucci Bari e Foggia, ancora senza aspiranti alla fascia tricolore, almeno alla guida degli schieramenti principali con l'aggravante che nel capoluogo Dauno si voterà ad ottobre e quindi il 20 settembre bisognerà consegnare le liste tardi, molto tardi, per rassicurare chi vorrebbe correre per il Consiglio Il centro-destra sperava di chiudere il dossier entro Ferragosto affidando le chiavi all'ex assessore regionale Leo Di Gioia o alla parlamentare Anna Maria Fallucchi che però rischierebbe di mettere in discussione un collegio difficile da riconquistare specie nella terra di Giuseppe Conte A sinistra i 5 Stelle vorrebbero chiudere sull'ex assessore Maria Ida Episcopo ma si attendono i dem A Bari invece il centro-sinistra si riunisce il 7 settembre preceduto da una segreteria del PD e dall'assemblea del partito A fine mese inviare i Davidi si ritroveranno i circoli del partito per mettere a punto la bozza del programma da portare in dota agli alleati Il centro-destra invece cerca un civico che faccia da giolli Dopo aver sgombrato il campo dal nome del senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre si cercano big della società civile dall'avvocato e prof di diritto Gaetano Filograno al numero 1 dell'ordine degli avvocati Gaetano D'Aluiso una girandola di nomi che si rincorre in attesa che tutti i tasselli vadano al loro posto e rigorosamente senza il crisma dell'ufficialità E adesso proseguiamo con la pagina politica parlando della festa dell'unità nel Tarantino nomi e volti del partito democratico per il tradizionale appuntamento di confronto tra i massimi esponenti del partito in Puglia e del centro-sinistra in generale Sentiamo Laura Milano perché sono emerse notizie politiche di spessore Partita a Fagiano nel Tarantino la festa dell'unità il tradizionale consolidato momento di confronto all'interno del centro-sinistra un appuntamento targato PD che ormai si rinnova da anni Questa festa oramai dal 1973 che viene organizzata da tanti amici e tante persone 2023 50 anni quindi orgoglioso di farne parte negli ultimi 16 anni ho dato anche io il mio contributo Il dibattito che ha aperto la prima serata ha visto la partecipazione dell'onorevole Ubaldo Pagano che non ha fatto mancare nel suo intervento i riferimenti al territorio Fitto, ministro contro il Sud, secondo Pagano perché non può chiedere di definanziare la decarbonizzazione del siderurgico La regione Puglia e tutto il centro-sinistra chiedono alla Commissione europea di non autorizzare la richiesta fatta dal ministro contro il Sud Raffaele Fitto di definanziare il miliardo di euro per la decarbonizzazione dell'ex Silva Le gare della società messa in piedi dal governo Draghi sono andate avanti c'è già un soggetto che dovrebbe realizzare le opere non si capisce la ragione per cui si debba procrastinare nel tempo quest'opera che ormai i tarantini aspettano troppo tempo Per il Partito Democratico si apre una stagione di nuove sfide soprattutto in Puglia a partire da Foggia il consigliere regionale Michele Mazzarano è fiducioso Il PD sta lavorando molto a rafforzare la propria identità grazie alla segreteria di Elie Schlein e a entrare in pezzi di società che aveva abbandonato da tempo che la sinistra aveva abbandonato da tempo soprattutto il mondo del lavoro questa battaglia importante sulla legge per il salario minimo Andiamo nel Salento adesso a Lecce per il piano di sicurezza blindato per la notte della Taranta e per la festa di Santo Ronzo in esclusiva ai nostri microfoni il prefetto di Lecce Rotondi spiega cosa è stato deciso durante il tavolo tecnico che si è tenuto poco fa Sentiamo Maria Teresa Carrozzo Si è tenuto presso la prefettura di Lecce nella sala tricolore un incontro tecnico presieduto proprio dal prefetto Luca Rotondi che ha visto la partecipazione di tutte le cariche deputate a garantire ed organizzare la rete di ordine e sicurezza in vista di due importanti eventi annuali per il Salento la notte della Taranta del 26 agosto a Melpignano e la festa di Santo Ronzo presente al fianco del prefetto il neocuestore di Lecce Massimo Modeo Quanto non c'è nella Taranta ci troviamo di fronte a un meccanismo che già negli anni scorsi è stato ampiamente collaudato naturalmente tutti i sistemi organizzativi sono migliorabili il comitato ieri è servito proprio per mettere a punto per verificare e eventualmente implementare le misure di sicurezza adottate sia da parte delle forze dell'ordine che delle polizie municipali sia da parte del meccanismo sanitario attraverso l'ASD che ha predisposto insomma un meccanismo che considererei poderoso come postazioni di sicurezza a tutela insomma dei cittadini e anche da parte dei vigili del fuoco si è addirittura ipotizzato anche l'utilizzo di droni per una migliore diciamo verifica della situazione di sicurezza nelle varie fasi diciamo della manifestazione Signor Prefetto invece in merito alla festa di Santo Ronzo quali sono state decisioni prese? La festa di Santo Ronzo ha una connotazione chiaramente completamente diversa rispetto agli eventi concettistici perché è una manifestazione che riguarda poi in fondo tutta la città di Lecce ed è stato necessario fare ieri un comitato ordine e sicurezza pubblica nel quale sono state messe appunto le misure organizzative con un apporto sostanzioso di uomini, mezzi che dovrebbero garantire la massima tranquillità dello svolgimento della manifestazione dalla processione agli altri eventi previsti anche musicali in città si cercherà di insistere di essere più forti anche sul fronte dell'antiabusivismo commerciale per consentire insomma a chi vende in maniera regolare di non subire fenomeni di concorrenza sleale e adesso parliamo delle problematiche legate agli agricoltori col diretti lancio un vero e proprio allarme quello del caro gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese agricole pugliesi assumire le conseguenze degli ingiustificabili rincari di benzina e gasolio e l'intero sistema agroalimentare pugliese con i prezzi del carburante agricolo balzati di 0,20 euro al litro in 15 giorni e che stanno facendo fermare i trattori per le arature nelle zone cerealicole e aggravano pesantemente i costi dell'irrigazione di ogni cultura ma fanno lievitare anche i costi della logistica quando l'88% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su gomma e quanto afferma come dicevamo col diretti Puglia in riferimento al rialzo dei prezzi di gasolio e benzina con la Puglia che risulta una delle regioni più care d'Italia il caro carburanti con il balzo dei prezzi del gasolio agricolo spiega la col diretti regionale in una nota fa esplodere i costi orari delle lavorazioni per cui si fermano i trattori nei campi ma c'è anche il rischio che si fermino anche i pescherecci alle banchine secondo col diretti Puglia è uno scenario preoccupante con il caro prezzi che taglia del 4,5% le quantità di prodotti alimentari acquistate dalle famiglie nel 2023 che sono però costrette a spendere comunque il 7,3% in più a causa dei rincari determinati dall'inflazione la produzione agricola e quella alimentare in Puglia assorbono oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno dei consumi totali e adesso ci occupiamo di cronaca con il pesce che è stato contaminato in Giappone quali sono le conseguenze per il nostro territorio per i nostri mari lo abbiamo chiesto agli esperti vediamo il servizio di l'aria del vino un rischio reale potrebbe abbattersi anche sulla blue economy italiana in seguito alla decisione del governo nipponico di dare inizio alle operazioni di scarico dell'acqua radioattiva della centrale nucleare di Fukushima nell'oceano Pacifico se si possono escludere con certezza le conseguenze dal punto di vista della contaminazione considerata la distanza geografica tra territori il problema potrebbe sorgere se dovessimo essere costretti ad aumentare le importazioni di pesce non una cosa di poco conto visto che da diverso tempo le politiche europee condannano la nostra pesca a strascico tipo di pesca su cui si fonda gran parte del nostro settore ittico ricorderete le proteste dei pescatori lungo tutto il litorale pugliese che lanciano l'allarme sulla progressiva morte del settore a causa delle decisioni da Bruxelles ragion per cui potremmo ritrovarci in un futuro non molto lontano costretti a consumare piuttosto che il nostro pesce qualitativamente superiore e sicuro rispetto a quello del resto del mondo prodotti ittici di altra provenienza lo spiega bene Savino Muraglia presidente regionale della Coldiretti Puglia per l'Italia la situazione non è pericolosa perché importiamo appena lo 0,02 di prodotto ittico all'anno diversa è invece la questione relativa al futuro della nostra pesca dopo le norme europee che vogliono di fatto vietare la pesca a strascico che andrebbe di fatto ad uccidere il settore ittico molto importante visto le nostre 7500 km di coste e soprattutto una delle pesche più sicure e molteplici dal punto di vista delle razze soprattutto c'è un tema legato alla sicurezza delle 63 segnalazioni di allarmi alimentare l'86% sono rappresentate da pesce importate intanto c'è una notizia dell'ultima ora che giunge dal brindisino sono state attivate poco fa le ricerche in mare per una persona vista nuotare tra le onde ma si sono perse le tracce al momento non ci sono altre notizie certe sul posto siamo in località Torre Canne nel brindisino si sta recando un elicottero dei vigili del fuoco una squadra di ostuni dei caschi rossi un gommone della sezione nautica e i sommozzatori sempre dei vigili del fuoco tutti coordinati da terra con mezzi specifici ricordiamo dunque che ci sarebbe questa persona dispersa in mare a largo di Torre Canne siamo nella marina di brindisi vi terremo aggiornati su questa vicenda sia sul nostro sito internet www.antenasud.com che durante i nostri telegiornali e adesso proseguiamo con la cronaca perché purtroppo dobbiamo raccontarvi dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato sulle strade della Puglia siamo in Salento sulla 275 che collega Lecce a Maglia e sentiamo Paolo Franza Ancora sangue sulle strade del Salento mercoledì mattina nell'impatto tra un furgone e uno scooter ha perso la vita Andrea Muccio di 47 anni di Alessano l'incidente si è verificato sulla strada statale 275 nel tratto che collega Alessano a Lucugnano la vittima residente ad Alessano per causa ancora tutte da chiarire è andata ad impattare con un camioncino della nettezza urbana un impatto violento che non ha lasciato scampo all'uomo alla guida del due ruote sul posto sono giunti a bordo di un'ambulanza e un'automedica i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 47enne troppo gravi le ferite riportate nell'incidente ferito anche il conducente del camion trasportato in ospedale sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso la ricostruzione della dinamica la situazione igienico-sanitaria in particolare i rifiuti per strada Taranto finisce sui tavoli della procura perché c'è un esposto denuncia fatto dalla Asso Consum un'associazione che tutela i consumatori e che intende attraverso questo gesto provare a individuare eventuali responsabili di questo degrado vediamo intanto il servizio con delle immagini che testimoniano qual è la situazione a Taranto le immagini sono state realizzate poco fa un esposto denuncia alla magistratura sulla difficile situazione igienico-sanitaria in cui versa Taranto a darne notizia Rocco Suma delegato provinciale dell'Asso Consum che aggiunge il consumatore ha il diritto alla corretta esecuzione nei servizi pubblici ed evidenzia una cattiva gestione della pulizia e dei servizi erogati dall'azienda pubblica che si occupa dello smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani a Taranto l'immagine che la città dà a quei turisti che giungono sulle rive dello Ionio è quella di una città trascurata prosegue Suma maleodorante e incivile ormai da mesi il sistema è in tilt cumuli di immondizie si incontrano in tutti i quartieri dal borgo alla città vecchia da San Vito a Tarzano fino a Paolo VI gettati alla rinfusa nei pressi dei cassonetti sempre stracolmi in cui il caldo della stagione agisce come humus per la proliferazione di batteri e favorisce l'alimentazione di blatte e ratti l'associazione non intende verificare perché e come si stia verificando questa situazione di disagio e di servizio né se l'amministrazione comunale di Taranto sia di sinistra o di altra estrazione politica conclude Rocco Suma la difesa del cittadino consumatore prescinde da queste valutazioni poiché ciò che è messa a repentaglio è la salute fisica ed economica dei cittadini tarantini per questi motivi è stata presentata una denuncia esposta alla magistratura perché valuti se ci siano state omissioni o negligenza nella gestione della raccolta dei rifiuti e se ciò deve attivare l'azione penale nei confronti dei responsabili o presunti tali nella speranza che la magistratura conclude l'avvocato Rocco Suma riesca a fare ciò che le amministrazioni non riescono a fare ovvero individuare i responsabili delle inefficienze delle omissioni e laddove vi siano reati penalmente rilevanti irrogare le sanzioni conseguenti insomma le immagini che abbiamo realizzato oggi parlano da sé questa è la situazione che si verifica soprattutto nel borgo di Tarot ovvero nel centro della città ionica intanto proseguiamo con la cronaca indagato il presidente nazionale dell'ACI Stichi Damiani Salentino sentiamo Maria Teresa Carrosso che ci spiega tutto con l'accusa di falso in atto pubblico il presidente di ASI Angelo Stichi Damiani sarebbe indagato dalla procura di Roma stando alle accuse avrebbe omesso la dichiarazione di redditi per milioni di euro tra il 2017 e il 2021 nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato a Stichi Damiani il PM Carlo Villani evidenziato azioni esecutive che il presidente di ASI avrebbe esercitato in funzione di un medesimo disegno criminoso consistente nell'autocertificazione di redditi non corrispondenti a quelli percepiti al fine di evitare l'applicazione del tetto retributivo annuale di 240.000 euro stabilito per pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche gli atti rivelano che a fronte di redditi dichiarati per circa 900.000 euro il presidente Stichi Damiani ne avrebbe percepiti per oltre 4.000 seppur non tutti attribuibili all'esercizio delle cariche pubbliche stando i calcoli degli inquirenti all'appello mancherebbero circa 3 milioni di euro ma come detto solo in parte riferibili alla pubblica funzione con una nota ad hoc illegale barese Eustachio Sisto ha premesso che il suo assistito chiarirà all'autorità giudiziaria in tempi rapidissimi l'insussistenza di ogni addebito e poi continua gli stessi identici reati contestati nel mero avviso di concussione delle indagini preliminari sono già stati oggetto di una recentissima archiviazione da parte del GIP dello stesso Tribunale di Roma su richiesta della stessa procura territoriale per infondatezza della notizia di reato anche in virtù della corretta presentazione con annesta pubblicazione della dichiarazione recante tutte le fonti di reddito ad innescare la nuova indagine sarebbe stata una denuncia partita dall'interno dell'Aci lo stesso club in cui il presidente a cori in carica è entrato molto giovane e dal quale non è più uscito raggiungendo repunte più alte fino alla presidenza adesso torniamo su una vicenda davvero inquietante clamorosa perché da 24 anni non si hanno più notizie di Roberta Martucci e intanto sua sorella continua a cercare la verità siamo andati in Salento con Paolo Franza sono passati 24 anni dalla scomparsa di Roberta Martucci era l'agosto del 1999 quando la ragazza esce dall'abitazione di Torre San Giovanni di Ugento per andare ad una festa aveva un appuntamento a Gallipoli ma Roberta non arrivò mai durante il tragitto risponde al cellulare pronuncia solo due parole sto arrivando una frase ascoltata da una delle sorelle a cui Roberta aveva dato un passaggio parenti e amiche cercano di contattarla mandano messaggi e la chiamano l'ultima volta che il telefono suona sono le 3 della notte poi il silenzio negli anni si sono aperte diverse piste ma per la famiglia si sarebbe sempre trattato di un depistaggio ne sono convinte le criminologhe Roberta Bruzzone e Isabel Martina che hanno puntato gli occhi su un parente della vittima ma nei confronti dell'uomo ci sono solo sospetti e congetture per loro la 28enne sarebbe stata uccisa forse per un segreto inconfessabile io lotto da quando è scomparsa dopo quello che è perso a maggior ragione lotterò sempre fino a trovare la verità diciamo dalle indagini da quello che è emerso è chiaro molto chiaro dico di non arrendersi mai di lottare sempre di non di non scoraggiarsi perché sono convinta che prima o poi si arriva comunque a una soluzione va via un figlio una sorella è impossibile stare fermi ad aspettare cosa bisogna sempre lottare sempre lo faccio proprio per dare giustizia a lei andiamo avanti parlando di un'iniziativa singolare e positiva lodevole nel contempo che giunge da Potenza siamo in Lucania lo dicevamo nei titoli nasce il pronto intervento sociale è stato presentato questo servizio che dà accesso alla residenza anagrafica e cerca di sostenere le famiglie soprattutto quelle in difficoltà economica sentiamo il nostro corrispondente da Potenza Francesco Cutro un sostegno concreto e costante per il contrasto alla povertà e per venire incontro all'esigenza di razionalizzare e velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza che si presentino al di fuori degli orari di apertura dei servizi sociali del Comune di Potenza questi gli obiettivi dei due progetti presentati nel Palazzo della Cultura dall'assessorato alle politiche sociali che ha visto la partecipazione anche del sindaco del capoluogo Lucano e dell'assessore regionale alla sanità e alle politiche della persona azioni importanti che vengono immesse in campo e attuate dal Comune di Potenza di contrasto alla povertà finanziate attraverso il fondo povertà della regione che prevede per un triennio circa 14 milioni di euro complimenti all'amministrazione perché si tratta soprattutto di azioni e servizi nuovi rivolte appunto per contrastare la povertà e andare incontro a quelle che sono le esigenze attuali dei nostri cittadini sono progetti che guardano le fasce della nostra società che versano magari in una condizione di maggiore difficoltà oggi da oggi di fatto l'ufficio delle politiche sociali diventa un ufficio aperto H24 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno e di fatto andiamo ad agganciare i leppi livelli essenziali di prestazione che sono uno strumento minimo fondamentale che garantisce quali debbano essere i servizi a cui i cittadini devono accedere inderogabili improrogabili e lo facciamo grazie all'aiuto delle cooperative che operano nel terzo settore che ancora una volta ci dimostrano innanzitutto quanto siano attive nella nostra città ma anche la qualità dei servizi che riescono ad offrire oggi partiranno questi due progetti uno il contrasto alla povertà con il fermo posta cioè un centro servizi a disposizione delle persone che sono in difficoltà partirà all'inizio in via l'anzaro saura ma dal 10 settembre abbiamo sistemato una stanza nel centro social di Malvaccargo e l'altro progetto è pronto intervento sociale perché in questi anni io me ne sono accorto che dal venerdì al lunedì alle 8 ci sono un sacco di problematiche nella città di Potenza e gli uffici erano chiusi non potevamo dare risposta a tante persone che giustamente ci chiamavano Andiamo ad Ostuni adesso in provincia di Brindisi ricorderete la vicenda dell'osteria del tempo perso che aveva varato un regolamento regole ferre che hanno creato qualche polemica fino a sollevare un polverone ebbene il titolare di questa storica osteria ostunese pare abbia fatto marcia indietro sentiamo perché nel servizio di Cristina Cavallo dopo la bufena che l'ha investita sui social l'osteria del tempo perso al ristorante di Ostuni fa retromarcia e rimuove dal proprio sito web il regolamento che imponeva ai propri clienti regole molto rigide per avere accesso al locale quelle che avevano indignato molto gli internauti e su cui si era puntato il dito erano il divieto di accesso al ristorante ai bimbi al di sotto dei 6 anni l'obbligo di consumazione di almeno due portate e il no all'ingresso dei cani tra tutte le regole elencate in precedenza resta solo quella relativa al divieto di accesso ai cani per motivi logistici scrivono i titolari del ristorante avevano spiegato già con una lettera aperta che le regole che riguardavano invece il divieto di accesso alle famiglie con i bimbi al di sotto dei 6 anni era scaturita dal fatto che spesso il ristorante veniva per così dire imbottigliato per i passeggini che rendevano gli spazi angusti forse abbiamo sbagliato a scriverlo affermano i titolari dell'osteria del tempo perso ma è stato un modo per organizzarci e per certi versi abbiamo provato a difenderci con queste regole per non dover ledere con le parole alla maleducazione che spesso impera e allora il caso sembra proprio essere chiuso come dire tutto è bene ciò che finisce è bene e percorriamo qualche chilometro ci spostiamo ad Ostuni a Brindisi perché lì abbiamo ascoltato il noto attore Roberto Ciufoli che si esibirà proprio nel capologo Adriatico l'intervista di Davide Cucinelli voglia di viaggiare raccontare e ridere è con questo spirito che il celebre attore e regista Roberto Ciufoli ma in scena a Brindisi con lo spettacolo Le città visibili tratto dal celebre romanzo di Italo Calvino il racconto di Marco Polo verso l'Asia a pochi passi dal porto di Brindisi la porta d'Oriente in un inevitabile legame tra storia e arte un libro quindi che diventa teatro in una location suggestiva come il museo provinciale Ribezzo Mi piace tantissimo pensare di essere in un museo ed essere ancora vivo insomma quindi questo già è un qualcosa che mi fa piacere perché mi onora poi portare un testo come questo è interessantissimo siamo in una ricorrenza che riguarda proprio Calvino siamo a cento anni da Calvino eppure poco è cambiato perché parliamo sempre di città delle quali Calvino si preoccupava di città grandi di città che vivono problemi anche di di organizzazione di sistemi tecnologici che rischiano di collassare ad un certo punto e fermarsi quindi città che sono l'unione di persone ma che che però possono rappresentare pure un problema tanto quanto allo stesso modo rappresenta un problema quello che c'è intorno alle città all'ambiente naturale poi il saluto di Ciufoli a Brindisi con la sua consueta ed irresistibile ironia beh un saluto caro proprio io ritornando sulla battuta a Brindisi perché tanto a Brindisi quante volte l'avrete sentita le stesse di quante volte io ho sentito battute sui Calvi e sui Pelati beh a Brindisi si può soltanto dire salute intanto prima di salutarci di chiudere questa edizione interregionale del nostro Tg diamo nuovamente la notizia che dell'ultimo ora a beneficio di coloro che si conessero soltanto ora all'ascolto e alla visione del nostro notiziario sono state attivate poco fa le ricerche in mare per una persona vista nuotare tra le onde ma si sono perse le tracce quanto avviene a Torre Canne vicino a Brindisi sulla costa adriatica della regione Puglia al momento non ci sono altre notizie ufficiali sul posto si sta recando un elicottero dei vigili del fuoco ma anche una squadra di ostuni un gommone della sezione nautica e i sommozzatori coordinati da terra con mezzi specifici dunque si va alla ricerca è scattato il piano di ricerche dei vigili del fuoco di una persona che sarebbe scomparsa tra le onde a Torre Canne costa adriatica Brindisina ovviamente alle 14.30 ci sarà il Tg dedicato a Brindisi già in quell'edizione forse potremo darvi qualche notizia in più intanto comunque c'è il nostro sito www.antennasud.com ci fermiamo soltanto un brevissimo stacco e poi proseguiremo in diretta con le notizie per parlare delle news di Bari della Bat e di Foggia www.antennasud.com www.antennasud.com